Buongiorno bambini, oggi vi spiego come faccio a costruire un flauto. Allora, occorrono delle cannucce, un pezzo di cartone, le forbici e lo scotch. Allora, prima di tutto unisco le 11 cannucce che abbiamo scelto. Le fermo con lo scotch per poterle tagliare. Inizio a tagliare le cannucce. Inizio a tagliare le cannucce. Inizio a tagliare le cannucce. Alle cannucce. Fermandolo poi con lo scotch. Grazie. 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 Grazie a te. oltre adesso tagliamo in diagonale le cannucce poi tagliamo dalla parte opposta in maniera orizzontale e così finito di tagliare abbiamo costruito il nostro flauto con la partecipazione di stefania potremo anche abbellirlo rivestendo il cartone o attaccandoci degli stickers oppure potremo creare una collana a flauto con dello spago fermandolo sempre al cartone per poterlo portare a spasso buon pomeriggio a tutti e buon lavoro grazie a tutti 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 grazie a tutti